Allora, abbiamo capito che la stampa estera porta sfiga, secondo l'analisi di Giorgia Veloce. Ormai, se stiamo a commentare le sortite di Meloni per coprire i suoi fallimenti, siamo freschi. Allora, io direi che asserire che il Movimento 5 Stelle abbia perso dopo aver conquistato la prima regione con una candidata donna, brillante, competente, che è stata premiata e apprezzata non soltanto dai sardi, ma da tutti gli italiani che si sono resi conto che abbiamo delle donne in politica, che il Movimento 5 Stelle esprime delle personalità in politica assolutamente all'altezza del loro ruolo, mi sembra un pochino, diciamo così, ingeneroso. Anche perché se noi consideriamo... Anche perché sì, sì, ma i guardi... Può essere ingeneroso, ma è bello. Possiamo anche fare l'analisi dei numeri, possiamo anche sommare, ad esempio, il voto di lista del 5 Stelle col voto di lista della lista a sostegno di Alessandra Todde, scopriamo che arriviamo quasi vicino a Fratelli d'Italia, 11 e 13. Però io non voglio fare quest'analisi qui, perché credo che il grande assente nel dibattito sia di questi giorni, ma nella campagna elettorale del centro-destra in Sardegna, siano stati sardi. Cioè, quella coalizione, quando ha fatto tutta la campagna elettorale, non ha messo al centro le esigenze dei cittadini sardi, i problemi dei cittadini sardi, le soluzioni per una sanità, per la scuola, per la continuità territoriale, i trasporti, lo sviluppo economico della Sardegna, il fatto che tanti ragazzi e ragazze sardi, come tanti ragazzi e ragazzi meridionali, sono stati costretti ad emigrare, per studiare, per avere una prospettiva di lavoro. Questo è stato il grande assente, per questo i sardi hanno bocciato il centro-destra, avrebbero bocciato Solinas così come hanno bocciato Truzzo, perché c'era una continuità tra i due. Quindi c'era un treno nazionale, secondo lei. Solinas era il peggior governatore nazionale, il peggior governatore, diciamo, nella scala di gradimento in Italia, e Truzzo era il peggior sindaco di gradimento in Italia. Non a caso ha perso, clamorosamente, proprio nella sua Cagliari di circa 20 punti. Quindi, quello che dico io, che per una volta, invece di giocare alle scaramucce interne di partito e di coalizione, come sta facendo il centro-destra, come ha fatto da novembre a oggi il centro-destra e continua a fare, perché non mettiamo al centro i bisogni dei sardi? E i bisogni degli italiani, la sanità, la scuola, l'istruzione, il welfare, i trasporti? Noi abbiamo un ministro, Salvini. Stiamo parlando di Salvini, Solinas. Ma Salvini, il ministro dei trasporti, ma si è occupato della continuità territoriale dei cittadini sardi, dei problemi dei trasporti? Adesso su Salvini lo vediamo con il nostro Magnani. E l'hanno bocciato. Proprio ieri, Salvini. Allora, volevo dire una cosa su Meloni, perché in realtà lei la faccia ce l'ha messa come in Abruzzo, cioè ha nascosto la faccia di Truzzo per metterci solo la sua, perché evidentemente Truzzo non era un candidato all'altezza, quindi non è sufficiente metterci la faccia della Presidente del Consiglio, perché quello che è invece necessario è avere un progetto solido, così come appunto noi lo abbiamo avuto in Sardegna e il centrodestra no. E quindi nonostante la faccia di Meloni e anche quel comizio un po' da capare che ha fatto in Sardegna, i cittadini non l'hanno premiati, anzi le hanno penalizzati. Ora, per la questione del terzo mandato, è evidente un tema però, mi scusi, stiamo parlando di Salvini, Salvini è un grosso problema interno che è uno Zaia, che insidia la sua leadership, ha bisogno di dargli il terzo, quarto mandato in questo modo, perché così Zaia continuerà ad occuparsi del Veneto e lui continuerà ad occuparsi, o a non occuparsi della Lega, visto che sta perdendo tantissimi voti. Stiamo sempre lì ad un gioco di potere, un gioco di palazzo, un gioco di scaramuzione. Cioè un interesse personale. Un interesse personale, non c'è una Lega che si occupa dei problemi dei cittadini e per questo non è più in connessione col popolo, come sembrava fosse nel 2019, anche se non lo era, era semplicemente un'operazione di facciata, un blef che è stato svelato dai cittadini e quindi Salvini si è sgonfiato come un pallone. Posso dire una cosa? Questo è un punto di vista molto importante. Io anche per rispondere alla dottoressa Chirico, a parte che ci sarà, penso il Presidente, ma io credo che il Presidente Conte e il Movimento 5 Stelle invece si siano dimostrati dei partner molto affidabili, perché hanno investito in un progetto. Però Geremica poneva la questione anche della leadership, cioè di chi interessa. Cioè chi ha più voti si siede a capotavola e comanda. Sì, sì, ma questo è un discorso secondario. Quando si parla di campo giusto, campo largo, io credo che quello che avete fatto vedere di Giuseppe Conte, un po' questo escursus di dichiarazioni, sia molto chiaro e coerente. Lui ha sempre detto che bisogna e necessario che si mettano insieme dei programmi, prima di tutto, tarati sulle varie specificità territoriali. Infatti in Sardegna è stato possibile, in Sardegna, dottoressa Chirico, sono mesi che stavamo lavorando su una piattaforma comune, non è una cosa improvvisata. Non è una cosa improvvisata e soprattutto la candidatura di Alessandra Todde è arrivata dopo che si è registrata una convergenza di programmi e non prima la convergenza sulla persona e poi dopo parliamo di programmi, perché altrimenti viene calata veramente dall'alto un progetto che poi non lega col territorio. Però in Abruzzo c'è Calenda, in Abruzzo c'è Renzi, in Abruzzo c'è 5 Stelle, c'è FD. Ma infatti, esatto, proprio perché bisogna capire la specificità della realtà territoriale e non fare, come ha detto Alessandra Todde ieri, io condivido, delle fusioni a freddo che non funzionano, non vengono comprese e soprattutto non sono funzionali al buon governo, perché se io devo andare con Calenda o col PD, vado con Calenda e col PD, però noi dobbiamo sapere bene su questi punti che facciamo se siamo in disaccordo, dobbiamo trovare una convergenza, dobbiamo trovare un minimo comune denominatore, altrimenti non si governa. Guardino sta rispondendo a questo titolo di libero, ci ha dato una risposta articolata che è questo proprio, il rischio ammucchiatissima, dopo il voto in Sardegna anche Calenda si butta nel campo largo. Cari delle spettatrici e spettatori, è il tema del giorno questo. Però è infondato questo titolo, mi scusi, perché comunque noi abbiamo le elezioni che saranno il 10 di marzo, le liste sono state già presentate a tempo fa e non è che dopo il voto in Sardegna si fa ammucchiata. E' vero che il PD ha preso più voti e nei sondaggi ha più voti, però sai, i segretari del PD sono deboli per definizione, invece Conte col favore che gli ha fatto Grillo di spazzare via tutta la classe dirigente di 5 Stelle precedente è il leader indiscusso e quindi lui se la gioca. Vittorio Baldino non è esattamente... No, però una buona parte, quelli che insomma potevano scurarlo perché... Ma io credo che Conte invece abbia molta sicurezza e non si debba sentire minacciato nella sua leadership da nessuno e soprattutto l'ha detto tante volte. No, all'interno del movimento sì, ma qui si parla che lui è il candidato del campo largo. No, sì, all'interno del movimento perché lei parla... È il più forte, è il più forte. Cioè che dice Senato che sulla... La Meloni si è guadagnata... La credibilità. La credibilità e anche un rispetto dei leader in giro per il mondo. Ma guardi, io in realtà se noi andiamo a guardare la stampa estera, tutte queste figuracce che avete inanellato e vi ringrazio perché è un servizio veramente da repertorio, questo qui... Noi sono tante le gaff che sono andate, sono basate agli onori della cronaca della stampa internazionale grazie appunto a questo governo di inadeguati, ma se voi vogliamo andare oltre alle gaff che avete fatto vedere e anche agli episodi spiacevoli a cui aggiungo che manca il pezzo finale che è quello degli studenti manganellati, studenti minorenni manganellati, non è una gaff in questo caso rispetto ad esempio all'olobbricida che ferma un treno e ha fermato un treno a Pozzolo, però è una cosa sostanziale, è un aspetto sostanziale che fa il paio ad esempio con le figuracce che abbiamo visto a Cutro, con la cattivissima gestione del governo rispetto alla strage di Cutro di cui peraltro quest'anno ricorre il tragico anniversario, però vorrei dire una cosa, al di là delle gaff e delle figuracce, mettiamo in fila i dati, allora crescita del PIL abbattuto allo zero virgola, calo della produzione industriale, aumento dell'inflazione, la svendita delle partecipazioni di Stato, la marcia indietro clamorosa sugli extraprofitti, la contrazione del credito bancario, il calo del potere d'acquisto delle famiglie, tagli al sud per circa 15 miliardi, una rinegoziazione del PNRR che ha lasciato indietro ad esempio gli investimenti per ammodernizzare i macchinari sanitari, abbiamo visto che la quarta rata è arrivata, domani va a Washington, il fallimento europeo sul patto di stabilità e crescita, il calo carburante, il calo dell'occupazione, io lo cito e le dico che a dicembre ha rallentato, a gennaio sono aumentate le casse integrazioni sia straordinarie che ordinarie e c'è un tasso di qualità dell'occupazione che è pessima perché è lavoro di scarsa qualità e soprattutto è sottopagato. Noi siamo l'unico paese che ha licenziato il premier in piena pandemia e la narrazione è che noi abbiamo gestito la pandemia meglio degli altri, cioè è una cosa che non sta l'incenziato il premier in piena pandemia, Renzi un partito del 2%, un partito del 2%, non è anche stato Renzi a dargli la vita, quindi ti faccio e ti dispo, però quello che tu dici.